Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo sui mercati in questa ripresa post-feste natalizie, prima della fine dell'anno. Bitcoin ha ripreso un po' di smalto, è iniziato un trend di brevissimo al rialzo, ha invertito il trend negli scorsi giorni per il superamento di alcune medie mobili che andiamo a vedere oggi. Oggi ci avviciniamo alla fase di nuovo pump bla bla bla. Ne parliamo in questo video ragazzi. Va bene va bene, allora ci sono un po' di cose che dobbiamo vedere per oggi, un video briefing in generale ragazzi e poi volevo darvi una notizia 29 dicembre se tutto va bene perché stiamo facendo le cose in maniera molto veloce. Facciamo il Christmas Trading on Contest, cioè una gara di trading, ve lo ripeto ragazzi, dove io metto a disposizione un premio in token, un airdrop in crypto del valore di 1000 dollari. E' una cosa che vogliamo fare tutti insieme ragazzi, ci saranno molti iscritti dalla mia Academy ma è aperta a tutti quanti voi. Tutte le informazioni, alcune guide, tutti i dettagli saranno pubblicati sul mio canale Telegram che trovate in descrizione ragazzi entro stasera penso. Quindi vi pubblicherò tutto quanto lì e poi anche gli aggiornamenti in divenire. Il 29 ci sarà questa gara se tutto va bene altrimenti la spostiamo al 30 ma tutti gli aggiornamenti li facciamo sempre sul canale Telegram. Ragazzi useremo FTX come exchange perché ci dà i subaccount ragazzi. Quindi avremo la possibilità con i subaccount di andare a seguire come una corsa dei cavalli tutti i trader. E' una cosa che facciamo non con lo spirito agonistico ma con lo spirito appunto da gioco ragazzi perché sono solo poche ore. Nella live che seguirà poi sul mio canale tutta questa e questo contest andremo anche ad ospitare altri youtuber, altre persone per parlare un po' di quello che sta succedendo e magari i trader che poi stanno facendo bene. Quindi è la prima volta che facciamo una cosa del genere è la prima volta in Italia che facciamo una cosa del genere. Quindi ragazzi se riuscite sostenetemi anche con i mi piace sempre molto 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 difficile andare ad organizzare queste cose. Vi assicuro soprattutto sotto le feste con tutti i vari impegni quindi mi piace iscrivetevi al canale e divulgate questo contest. Va bene ragazzi ora andiamo a vedere quella che è la questione di Bitcoin e tutto quello che sta succedendo sui mercati cripto. Ok ragazzi allora la questione Bitcoin è iniziato un nuovo ciclo mensile dal minimo del 18 dal minimo del 4. Anzi ciclica è un po' dubbiosa in questa fase e sinceramente non reputo la cosa estremamente importante nel darvi dei diciamo delle analisi giornaliere da questo punto di vista quando poi i mercati in sostanza fanno semplicemente oscillazione quindi rumore di fondo perché dalla 4 dicembre in pratica fino ad ora ragazzi siamo stati sempre chiusi all'interno di questa barra di oscillazione quindi è anche vero che magari facendo trading intraday si poteva fare qualche soldino però in pratica non è che il mercato abbia dato grandi 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 segnali. L'unico vero vero segnale è stato il break di queste due medie mobili che è stato fatto appunto qui. Break che io stesso ho tradato ragazzi long su Bitcoin anzi vi faccio vedere. Ragazzi allora l'operazione l'ho fatta su Delta Exchange questo exchange nuovo piccolino che sto utilizzando da un po' di tempo vi lascio i link in descrizione se qualcuno di voi vuole provarlo e mi date come sempre una mano con i ref e queste sono le due operazioni quindi il mio ingresso un po' più pesantuccio diciamo su Bitcoin e poi invece quello che vedete su ETH è un trading system che sto testando quindi va e viene questa operazione quindi le chiudo di continuo mentre questa su BTC ragazzi ho un po' il dubbio se mantenerla nei prossimi giorni ma adesso insomma vi faccio capire appunto questa cosa quindi l'unico vero segnale di long è avvenuto in questa candela io ho anticipato leggermente ho pubblicato in Academy l'ingresso che avevo fatto questo appunto che vedete qui e insomma poi è andata bene in questo caso ovviamente non sempre può andare diciamo in questi modi in questo caso proprio è avvenuto un bel break perché poi nella giornata Bitcoin ha fatto un più 5 breakando questo livello perché era appunto un livello anticipatorio il mio ingresso relativo a un break che mi aspettavo per una serie di motivi allora qui il trend di brevissimo è invertito cioè è stato invalidato quello che è questo canale discendente da questo punto di vista per Bitcoin poi ha fatto vedete un up un pullback sulle due medie mobili che sempre utilizzo che sono abbastanza elevate dopodiché che cosa sta succedendo Bitcoin è bloccato cappato da questo livello di resistenza cioè un livello intorno ai 52 mila dollari 52 mila dollari è un duplice livello di resistenza perché lo è sia da un punto di vista tecnico quindi analisi tecnica sia da un punto di vista ciclico quindi analisi ciclica perché al di sopra di quel livello la struttura del ciclo mensile si piega verso l'alto e quindi probabilmente che sia iniziato il 18 o il 4 nuovo ciclo mensile ma state qui con me ragazzi perché voglio farvi vedere su Ethereum e lo vedremo anche su Bitcoin quello che mi aspetto io è proprio nei prossimi due mesi non uno è un po' il mio dubbio sulla questione quindi tenetevi ancorati alla sedia perché questa cosa è molto importante secondo me per i prossimi due mesi comunque per la situazione di breve un break dei 52 mila dollari probabilmente segnerà anche un mini pump di Bitcoin e la cosa ci può stare ragazzi ma purtroppo non ci lascia fuori da alcuni rischi che potrebbero avvenire proprio nei prossimi giorni perché intanto questa discesa è stata molto prolungata ragazzi molto molto prolungata a livello di tempo non tanto a livello magari di percentuale perché quello può avvenire sui mercati dell'ecritto ma a livello di tempo è durata veramente tanto quindi impossibile non andare a considerare tutta questa campana come una fase di chiusura importante di alcuni cicli anche un break dei 52 se dovesse farlo intanto Bitcoin segna in maniera definitiva l'inversione di breve periodo e qui ci siamo qua insomma sarebbe una cosa molto positiva però però ci sono subito dei livelli importanti intanto questa zona qui tutta questa zona è un livello di resistenza intorno ai 55 io spero che Bitcoin riesca a raggiungere questi livelli entro la fine del mese perché in quel caso andrebbe a disegnare una candela molto importante anche a livello mensile e questo mi darebbe buone prospettive però da un punto di vista questa magari la vediamo ragazzi prima insomma facciamogliole fare le operazioni poi le vediamo però da un punto di vista ciclico questa struttura che sta andando a disegnare che si spera vada a disegnare dobbiamo vedere prima il break dei 52.000 ragazzi senza il break dei 52.000 tutta questa cosa non è confermata quindi è fondamentale anche se qui c'è un cross delle medie quindi è fondamentale però che cosa sta succedendo andiamo a vedere su ETH da un punto di vista della struttura del ciclo allora secondo me ragazzi il mercato sta disegnando strutture cicliche in questo momento da 70-80 giorni se vado a riprendere il minimo in questo caso del 4 di dicembre come un minimo importante anche su ETH e tralascio la questione dei cicli mensili quindi vado in sostanza a fare cosa ragazzi a prendere uno zoom out cioè vado a vedere la situazione un po' più da distante che da vicino perché quando c'è un po' confusione sui mercati cioè quando i mercati usciranno fanno tanto rumore intanto ricordatevi che dicembre gli istituzionali sono in ferie in questo momento quindi rientrano a gennaio perciò in questa fase tutto quello che vediamo è molto rumoroso sul mercato quindi ci sta che il mercato vada a dare segnali pressoché inutili non ci sono stati grandi movimenti anche il mese di dicembre in generale a livello di volatilità è molto basso per i mercati cripto ragazzi quindi anche se non sembra però sicuro è basso nel momento in cui avvengono queste cose io preferisco sempre andare a fare zoom out cioè andare a vedere i cicli e la situazione generale più da medio-lungo periodo perché? perché si vede meglio ragazzi è un po' come quando vi comprate l'80 pollici bc piazzate davanti cercatevi dei pixel e vedete tutto sgranato poi tornate indietro e indietro li posizionate a 3 metri e vedete l'immagine nitida ben definita è la stessa cosa sui grafici quindi imparate un po' anche a sguicciare mentalmente in queste due situazioni differenti allora secondo me ragazzi la struttura dei cicli delle cripto si sta svolgendo in cicli ternari infatti così anche l'RSI mi conferma questa cosa per esempio su ETH questo potrebbe significare che proprio tra il 4 e il 18 in questa fase perché per esempio su Bitcoin si potrebbe fare iniziare il 17-18 di dicembre scusate e su ETH e 4 non cambia granché perché cambia solo il punto di fine di qualche settimana che poi dovremmo comunque andare a vedere se lo rispetta quindi a livello proprio di tempi al dettaglio su orizzonti temporali di 80 giorni non è un granché quindi l'idea generale è che il mercato stia andando a disegnare queste strutture di versione ternaria quindi cosa succede qui e dov'è la questione importantissima da andare a considerare che da questo punto o da questo è lo stesso non cambia niente pochi giorni se anche iniziato per esempio su ETH una nuova struttura ciclica che durerà un'ottantina o una settantina di giorni ci porterà tutta questa fase verso fine febbraio ragazzi fine febbraio ora la questione è delicata perché se non vediamo dei pump importanti che magari possano spingere non so bitcoin ma ETH magari vicino ai precedenti massimi sì allora ragazzi la questione diventa delicata perché se questo ciclo che vedremo da 80 giorni circa potrebbe essere quello del massimo del ciclo dell'albing era un po' riprendo la famosa live dove Daniele parlava insomma di questo pump improvviso secondo lui di BTC che al momento ovviamente non c'è stato allora se però dovesse esserci proprio in questi giorni in questa struttura ciclica che poi è esattamente questa qui ragazzi quindi questa struttura ciclica qui se dovete farlo e fare qui mi aspetto almeno un arrivo soprattutto su ETH in questa zona perché? Perché poi nella seconda fase se andiamo in close e non abbiamo superato questi massimi o quantomeno non ci siamo avvicinati potremmo assistere a molta debolezza e questa poi andremo a identificare una fase del genere come una fase di chiusura di un semestrale molto lungo perché i semestrali secondo me del crypto in questo momento ragazzi si stanno allungando almeno per come li calcolo io che sono poi molto molto grandi insomma oltre 200 giorni in questo caso allora questa è la questione generale quindi la mia finestra temporale mi dice attenzione a questo rimbalzo perché questo rimbalzo bisogna andare long l'avete visto e vi faccio rivedere la mia operazione altrimenti poi dite che io dico le cose poi non le fa le faccio qui ragazzi sono long però allo stesso tempo questa posizione è fortemente protetta da stop trailing e tutto quello che c'è e che deve fare un trader perché? perché è pericolosa ragazzi perché nel momento in cui io vado a fare questo pump va bene però poi se il mercato non sviluppa proprio un trend più importante in questi primi 30 giorni quindi da qui a fine mese di gennaio poi nell'ultima parte potrebbe soffrire parecchio quindi dobbiamo cercare di riavvicinarci ai massimi in questo ciclo se non lo fa secondo me viene tutto rimandato a febbraio e a fine febbraio quindi primi di marzo e a quel punto noi potremmo dire ah rientriamo in birra io non sono di questa idea e continuano a non essere di questa idea proprio perché la questione di riportare eventualmente tutto nella seconda parte del ciclo annuale quindi da febbraio in poi potrebbe essere interessante soprattutto se questa struttura ciclica non fa molti danni che significa non fa molti danni o si adesso ve la faccio vedere su bitcoin o si avvicina per esempio qui e poi va a chiudere in maniera delicata diciamo così una cosa del genere mi sta anche bene anche un doppio minimo mi sta bene anche un minimo leggermente superiore oppure addirittura tenta di breccare i massimi quindi se tenta di breccare i massimi ovviamente siamo a cavallo ragazzi però questa struttura se invece è molto debole e fa una cosa del genere diventa veramente un problema allora è tutto legato appunto a questa prima fase di rialzo che coincide nella fine del mese di dicembre nella prima decade di gennaio tutto si gioca intorno a questi due settimane operazione longa va fatta e corretta perché perché se andiamo a fare il pump noi dobbiamo essere già dentro al mercato però questa operazione io la proteggo ragazzi e la proteggerò anche sulla mia posizione holding di bitcoin che è rientrata al 100% con i miei trading system ma questa volta se i miei trading system mi daranno segnale di inversione esco con una quota molto più importante anche dalle mie posizioni in hold su BTC cioè le metto a protezione ragazzi poi magari rientrerò anche a prezzi più alti se il mio sistema mi darà l'ingresso nuovo non fa niente però preferisco proteggere diciamo di più delle posizioni in hold proprio perché questa fase è delicata ragazzi è molto 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 delicata allora questa è la struttura secondo me dei cicli in questo momento vi faccio rivedere e th quindi un ciclo da 60 70 il secondo 5 70 60 70 e il terzo è così qual è questa la data dove arriviamo probabilmente intorno a fine mese di febbraio 22 febbraio tra come sempre i mercati a volte anticipano uno fatto qui ragazzi quindi potrebbe anche essere dalla 15 febbraio in poi sicuramente sarà una scadenza estremamente bella da vedere perché perché ragazzi se chiude lì poi in effetti un semestrale lungo allora possiamo avere davanti dei buoni mesi allora io starei attento a questi giorni mese di gennaio delicatissimo ma anche molto bello perché perché se in questa settimana riusciamo a riportarci sopra 52 53 per quanto riguarda bitcoin vi faccio poi vedere un pattern sulla mensile che sta andando a disegnare che è ghiotto ragazzi e quindi magari andrebbe a rafforzare la teoria di proviamo di nuovo il test dei massimi chi lo sa ragazzi sappiamo che le cripto in questo caso possono dare grandi slanci però in questo momento la struttura ciclica ci dice siamo all'inizio di un nuovo ciclo probabilmente di due mesi circa un trimestrale lungo no scusate corto un trimestrale corto e la fase up deve avvenire adesso se vogliamo andare a credire ai massimi dobbiamo farlo adesso altrimenti tutto rimandato da metà febbraio in poi di nuovo ma potrebbe in effetti farla una cosa del genere ragazzi però io nel frattempo ho preso posizione e tento la strada del pump poi se bitcoin mi butta fuori in trailing stop amen faccio meno gain però mi proteggo ragazzi questo è il quarto va bene fatemi sapere voi cosa state facendo avete visto che situazione delicata questa qui vi assicuro che questa struttura ciclica che vi ho mostrato oggi su BTC e TH la ritrovate su tutte le top coin addirittura fino a 50 top coin perché ho fatto un'analisi per tutte quante quindi questo è molto interessante ragazzi molto molto bello da andare a vedere va bene allora noi ci rivediamo nel prossimo video e ciao a tutti